Ah, Jeremy, dobbiamo aspettare ancora tanto, ci fai entrare. Dovremo farlo senza di lui. Pronto? Uno, due, tre. Sei tornato per provare di nuovo l'incantesimo Petrificus Totalus? Questa volta dovresti... Vuoi cercare di migliorare la tua attuale votazione, Harry? Osservate i movimenti della mia preziosa bacchetta magica... E' pronto? E premete il simbolo verso cui è puntata. Splendido! Sublime! 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 Questa era la parte... Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Sublime! Sublime! Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Hai ottenuto una votazione... Vuoi provarci di nuovo, Harry? Osservate... Ripetete l'esercizio... Ripetete l'esercizio... Ripetete l'esercizio... Sei pronto? Splendido! Splendido! Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Questa era la parte... Questa era la parte... Splendido! Sublime! Splendido! Splendido! Spendido! Spendido! Splendido! Splendido! hai ottenuto una votazione vuoi provare osservate ripetete l'esercizio sei pronto? uno stile impeccabile quasi come il mio sublime splendido questa era la parte più facile splendido uno stile impeccabile quasi come il mio uno stile impeccabile quasi come il mio ancora uno uno stile impeccabile quasi come il mio uno stile impeccabile quasi come il mio sublime hai ottenuto una votazione pari ad congratulazioni grazie al tuo impegno sei riuscito a conquistare la coppa della lezione di difesa contro le arti oscure congratulazioni hai vinto tutti i trofei e gli scudi delle case la figurina strega e maghi famosi di un fondatore ti aspetta nella tua sala di ritrovo e con questo è tutto poter dorkas well-beloved dorkas dorkas well-beloved dorkas well-beloved vieni vieni da me colibri sapevi che le gio si co godrick grifondoro hai sentito parlare dietro di noi c'è una statua puoi utilizzarla per trovare gli ingressi ai duelli dei fondatori sconfì nessuno e qui per accedere a trovare le figurine streghe e maghi famosi può essere molto difficile per questo abbiamo deciso di vendertene cinque Harry è un ottimo fanta ignazia will smith fantastico greta kachlov fantastico john cmj il Working PCreاح di н no che di c ha ce Grazie a tutti.